In Veneto i Vigili del Fuoco devono pagare di tasca proprio il tampone se vogliono essere monitorati per infezione da Covid. La denuncia arriva con un comunicato diffuso dal sindacato di base USB dei Vigili del Fuoco di Padova che chiede che lo screening sui pompieri impegnati in tutta la regione venga effettuato periodicamente. Come categorie i Vigili del Fuoco si sentono esposti vista la loro attività di soccorso, spesso a contatto ravvicinato tra di loro e con i cittadini che chiedono il loro intervento. A tal proposito il sindacato USB ha contattato il professor Crisanti del Dipartimento di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova che ritiene sia doverosa la sorveglianza sanitaria e l'effettuazione del tampone molecolare con cadenza regolare. I Vigili del Fuoco stanno cercando di esporre il problema anche alla regione Veneto e così hanno proclamato lo stato di agitazione regionale con tentativo di conciliazione il 9 novembre ma con l'intenzione di organizzare una giornata di sciopero. Grazie a tutti.